Dopo che avrà saltato. Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto. Perché no? Brava! Le viene naturale? Basta, non c'è altro. È sufficiente, è una saltatrice esperta. Ecciva! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, papà Pig. Andrà tutto bene, mamma Pig, e per incoraggiarti salgo insieme a te. Buona fortuna, mamma. Non ti preoccupare, mamma Pig. Tieni sempre a mente che hai indosso il paracadute. Va bene, papà Pig. Oh, siamo molto distanti dalla Terra. Oh, no. Papà Pig è caduto dall'aeroplano. Ecco, si è lanciata. No, un momento, quello è papà Pig. Aspetta, arrivo, papà Pig. Anche mamma Pig si è lanciata. Va a salvare papà Pig. Ti ho preso. Oh, l'ho afferrato. È viva! La mia mamma si è lanciata in soccorso. Ti ringrazio di avermi salvato, mamma Pig. Oh, papà Pig, mi scivoli dalle mani. Il signor Toro ha appena finito di riparare il tetto della scuola. Gran bel lavoro. Adesso durerà per anni e anni. Non riesco a tenerti. Ah! Papà Pig! Oh, cielo, papà Pig si è fatto male. Oh, no, tutto bene. Ottimo, perché dovrà lanciarsi un'altra volta col paracadute, papà Pig. Per quale motivo? Per raccogliere il denaro che servirà ad aggiustare questo nuovo buco sul tetto. Oh, e va bene, lo farò. Un bell'urrà per papà Pig! Nonno Pig resterà da solo. Qui c'è del cibo in scatola. Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto. Ecco, è un apriscatole. So bene che cos'è quello, nonna Pig. Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua. Sì, sì, so bene anche questo. Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Abbiamo portato la spesa. Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già. Sarà meglio chiamare un taxi. Qui servizio taxi. Buongiorno, nonna Pig. Io dovrei andare all'aeroporto, per favore. Ma naturalmente, si accomodi. Grazie molte. Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene. Ciao, ciao! Ciao, nonna! Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì, e per la verità avremmo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina! Ciao, ciao! Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor lupo. Taxi! Si accomodi! Ciao, ciao, signor lupo! A Peppa e George piace salutare con la manina. Ciao, ciao! Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi. Oh, se ne è andato. È stato in vacanza, immagino. A dire il vero, sono piuttosto stanco. Se non le dispiace, eviterei di parlare. Parlare? Certo, la gente parla troppo di questi tempi. Lei non trova parlare, 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 parlare. Pare che ci siano persone che possono parlare per ore senza prendere mai il fiato. Mio sorello, per esempio, può parlare pronto? Qui in servizio taxi. Prego, da questa parte, avviatevi verso il castello dove sarete raggiunti da un cavaliere con l'armatura. Benvenuti! È il signor coniglio vestito da cavaliere con l'armatura. Cominceremo la visita al castello da qui, davanti a questo cannone. Nei tempi antichi, il cannone veniva utilizzato per sparare queste pesanti palle di cannone in aria fino al cielo. Papino, credi che sparerà davvero con il cannone? No, sarebbe un'assurdità, Peppa. Bene, adesso diamo fuoco alle polveri. 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Ha quasi colpito la nostra auto. Come abbiamo avvisato, il parcheggio della vettura è a vostro rischio. Proseguiamo con la visita. Avrete modo di osservare tutte le meraviglie di questo castello e di ammirare un vero banchetto medievale. Che bello, un vero banchetto medievale. Non riesco a crederci. È una prospettiva deliziosa. E poi incontrerete un drago. Ecco, questa è la sala del trono, dove un tempo sedevano il re e la regina. Chi vuole provare a sedersi sul trono? George può fare il re e io sarò una regina che dà ordini a tutti. Tu fai questo, tu fai quello. Vostra maestà, posso proseguire con la visita? Sì, te lo concedo. Adesso dovremo passare attraverso un passaggio segreto. Ma prima è fondamentale trovare il passaggio segreto. Vediamo, in più delle volte questi passaggi segreti hanno un meccanismo super segreto che consente di aprirli. Non credo che si tratti di quel grosso pulsante rosso. Sarebbe troppo facile da trovare. Già, noi preferiamo la semplicità. Com'è divertente! Questo passaggio ci ha condotti fino alla sala da pranzo. Quante delizie! Immagino che questo sia il banchetto medievale. Già, e ha un aspetto molto invitante. Ma è tutto di plastica, è finto! Se è così, perché è tanto alto allora? Sono tanto alto perché sono una giraffa. Io sono più alta. No, non è vero. Invece sì. Bisogna misurare la punta delle orecchie. Oh, contano anche le orecchie? Gerald Giraffa è comunque più alto. Oh, io vorrei essere alta come Gerald. Anch'io! Anch'io! È il momento della ricreazione. Dai, giochiamo al nascondino. Va bene. Uno. Mentre Peppa conta fino a dieci, tutti devono trovare un posto dove nascondersi. Otto. Nove. Dieci! Uno, due, tre. Chi non ha fatto resta a me? Tana per Gerald. Oh, non mi hai trovato! Neanche a me! Neanche a me! Neanche a me! Neanche a me! Io invece vengo scoperto perché sono troppo alto. Peccato. Non è molto divertente essere così alto, perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri. Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino. Ciao, piccolo George. Dimmi, com'è essere così bassi? Dai, giochiamo a palla. Sì! Magari io vengo a giocare dopo. Gerald Giraffa non vuole giocare perché è triste. Prendila, Danny! Attento, arriva, Pedro! Prendi questa, Peppa! La palla si è incastrata su un ramo. Non riesco ad arrivarci! Aspetta, ci provo io. No, per me è troppo alta. Cosa facciamo ora? Io lo so, buttiamo giù l'albero. No! Io ci posso arrivare con la mia proboscide. No, non ce la faccio. Se Emily non riesce a raggiungerla con la sua proboscide, allora non riprenderemo più la palla. Che cosa possiamo fare? Buttiamo giù l'albero. Ve l'ho già detto. Se soltanto esistesse qualcuno così alto da raggiungere la palla. Gerald! Che cosa? Tu puoi sicuramente raggiungere la palla perché sei alto! Ci posso provare!